Il countdown è partito, fissati data e orario definitivi, Rende vs Vibonese è pronta a decollare, sabato 17 novembre, ore 18.30, stadio Marco Lorenzon. Sarà sfida ad alta quota, il derby più in alto degli ultimi anni, di fronte due squadre che non ti aspetti, il Rende di Ciccio Modesto e la Vibonese di Nevio Orlandi. I primi hanno conquistato la vetta della classifica nell'ultima giornata, quella che ha registrato un turno di stop obbligatorio per i secondi. Da una parte quindi l'entusiasmo alle stelle, dall'altra qualche giorno in più di riposo, in campo destini incrociati, quelli che legano Orlandi e Modesto alla regina. Uno l'ha allenata, l'altro ci ha giocato, entrambi in Serie A. A distanza di anni si ritroveranno su panchine opposte. Modesto l'ha ereditata da Bruno Trocini, facendo anche meglio del suo predecessore. Orlandi ci si è seduto praticamente un anno fa, dopo l'addio di Campi Longo. Il resto è storia recente, aspettando il futuro, aspettando il derby bianco-rosso-blu. Per Orlandi e per Modesto, dal sapore speciale. Da Vibo Valencia, per la Cineus 24.